Ave Maria, prima di relato il Signore scambito, segue una lista a fare l'ombra, anche tutto il Signore. Eeeh, San D'Avra, San Domenico, sto facendo un prevedo. E' un prevedo, sono felice. Questo fa prevedo a cui non ci stai a fare, e cerci a fare, non ci stai a fare, che fa, e non ci indurre nell'azione, ma lui ci dà il male.